La Deep Dab! La Deep Dab! Ce l'ho ancora, ce l'ho ancora! Tappiamo i facciati AR! Che gli dà fastidio! Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Fortnite! No, non è un pesce d'aprile! Mi hanno proposto di tornare gogliardicamente a giocare una partita, anzi un po' di partite in live, dopo quasi un anno dall'ultimo game. Pensate, ho fatto il tempo a vedere solo di sfuggita la season 2. E così è successo, siamo tornati e abbiamo subito vinto! Ma soprattutto sono tornato per dirvi di supportare con il codice creatore Ernesto Fiammata. Per il resto doppio appuntamento live oggi, alle 16 per un'oretta sarò in live per vedere insieme a voi a Attack on Titan il secondo episodio della season 4. Mentre alle 20.30 inizia il grande contest delle città 3.0 con la prima fase delle selezioni. Mega evento vi aspetto quindi, mi raccomando, e ora vi lascio al video. Poi c'è Wolverine che fa la breakdance! Ma come c'è Wolverine che fa la breakdance? Ma mi fa ridere! Allora, si shifta, no, si cor... Che cazzo è questa cosa? Perché? Non lo sai i vostri comandi, raga. Control, si abbassa, no? Ehm, sì. Il shift perché rallenta? Aspetta, perché c'è il deserto al centro? Ah, sì. Questo l'avevo visto, questo l'avevo visto. Quindi poi è sullato tutto. What up? Sì, ma è orribile. Ma è orrenda sta mappa. No, no, è divertente, è divertente. Eh, guarda, è molto più divertente adesso. Andiamo a... Andiamo qua, così stiamo un po' esterni. Aspetta, qua? Ok, lì. Sì, va bene. Ok. Ah, e dove c'era la... Brugherie Brumose, sì, mi ricordo. Brugherie Brumose. Brugherie Brumose. Cioè, Brumotti che salta con la bici, insomma, è lì. In questo momento sono Brumotti con il vestito da lama che si sta cadutando nel quartiere Zen per fare un servizio di Twitch. Per andare ad intervistare il CEO della droga di Fortnite. Salve, posso parlare con il CEO della droga? Con il CEO? Ma raga, ma perché se Premo Shift rallenta? Dove posso reperire dello sballo? Vieni qua, è nelle mie mutandine. Ah, non credo proprio. Provare per scegliere, vieni a controllare. Ma no, ma Spina regala la Sabba Brumotti, ma per piacere. Benvenuto Brumotti, grazie. Frate, però se posso dire una cosa, Tiar, probabilmente fa più male quello che c'hai tu in mezzo alle palle che effettivamente è una droga. Sì, probabile. Solo s... Basta! Cusate! Raga, perché scatta di base e rallenta con Shift? Ma che vuol dire? Perché Shift è che covacci? A parte che c'è questa cosa, ora hanno aggiunto che se tu lo premi, lui continua a scattare. Cioè, se ti basso la prima volta, lui continua a scattare. No, lui scatta di base. Il personaggio mio scatta di base, senza che faccia niente. Se Premo Shift rallenta. Ma c'è un'auto. Ci sono le macchine? Buongiorno! Ehi! Ti dà un po' di macchina. Allora, è vero! Scendi dalla macchina! Scendi dalla macchina tutti quanti! Ragazzi, io non mi scendo davanti perché dietro mi viene da vomitare. Spara, spara, anche se siamo dentro. Anche io le birre. No, Daniel ho venduto delle birre in sborda! Ma io ero full. Dai, Dani, sali. Arrivo. Vai davanti che se no vomiti. Grazie. Andiamo. Siamo pronti a vincere la prima partita del niente. No, non prendere le buche che Chris... No, che Eric. C'è qualcuno! Ma sono botta, mi sa. Alcuni sono botta, raga. Ma questa è... Wow, la mia prima kill! Italian by the way! Ma l'avevo indepulito io! Volevo io la kill! Preso. Ma mi avete ciulato tutto! Ma allora... Raga, ho già fatto una kill! Sono appena tornato dopo un anno. Ho già fatto la prima kill di squadra! Beat! Dopo che io gli ho levato tipo 66! Chi è scomparso dentro? Boys, scusatemi, non sapevo che sarebbe successo. Ci sono le scorciatoie, ci sono le scorciatoie. Arrivo, arrivo, arrivo. Ritorno su. Dov'è finito? Se tu prendi il cestino vicino a quella casa, compari sotto. Nascondi. Wow! Corre di base ora. Ah, ok. Sì, io l'ho setato davvero una bomba. Ma che fissa! Ma che fissa sta cosa! Dai, io sono stannatissimo. Non so se prendo niente. È vero che si builda! Where can I? Where can I? Scusami! È vero che si builda! Con quali comandi si buildava? Mi sa che hai giocato i miei, quindi con la culmura e i tasti laterali del mouse ti ho messo. Posso dirlo? Mi ricordo più io come si gioca a Keren. Tanto ho fatto una kill e tu no. Cioè, hai ragione però. Ma frate, ma ti l'hai volito io! Ma smettila! Grazie, Reb. Me l'hai rubata! Taglia accettata. Sì, ci sono le taglie, è una roba copiata fallisemente da cosa. Mi stai dicendo che devo dimagrire? Finalmente un po' di silenzio, quindi cosa dobbiamo fare? Non lo so, ma è fin... Dovete farmare, in questa zona gialla c'è un team o una persona. Ok. Quindi la cosa che dovete fare è state attenti, farmate, prendete i mazzi, quello si stanno pure allontanando da noi. Quindi sti cazzi, questa è la colangula. Ma questo fa già parte del provino, Chris? Sì, sì, sì. Beh, per ora nel provino sono in vantaggio io avendo fatto la kill, è vero? Che falle, però Chris ti chiedo di valutare il fatto che gli ho levato 66 quando sceglierete chi di noi entrerà. Ma questo è davvero soggettivo. L'ha detto, ben 66, l'ha detto. 66 li ho tolto, voglio entrare io negli Leven Monkeys. Tanni, gli avessi tolto 69 sarebbe stato assicurato. L'urbanio! Ci sono dei bot, ci sono dei bot. Prendete la barca, ci penso io qua. Dove cazzo la barca? È lì a fianco a te. Oddio! Ok, riprendi la macchina! Quindi io devo guidare? Raga, sono andato fuori strada! Chi se ne frega di sti qua! No, aspettatevi, sono andato fuori strada! Fidatevi me, state con me, state con me, state con me. Ok. C'è l'è da quella macchina. Vado. Allora, no, no. Dani? Ahia! Esci? Dani! Vuoviti! Mi avete lasciato in macchina da solo! Dani, vuoviti! Ma non l'hanno mai fixata la barca che va sulla terraferma, scusate. No, apparentemente no. Ah, merda! Cioè, sono questi 15 anni e ancora così. Anche lì, anche la San Andrea è stata sulla terraferma ed era un veicolo mai finito. Raga, siamo in top 50. Wow, top 40 quasi. Oh, livelliamo. Ma, ok, dove andrà? Puoi potenziarlo, puoi potenziarlo. Ma cosa è quella roba là giù? Quello è il punto zero. Ti ricordi tanto tempo fa il cubo? Io se ho letto un teaser o qualcosa, ci sono davvero le sabbie mobili? No. Quelle sì. No. Dani, ma trovati un altro albero. Cioè, quindi l'unica cosa che sapevo era una cazzata. Ma no, ma ci sono, guarda. Non è una sabbia mobile. Divento una talpa. Come diventi una talpa? Stai sotto? Stai fermo. Immobile. Poi, accovacciati. E ti muovi. Ma perché Fortnite? Scusami, abbiamo finito i giochi intelligenti da portare. Sommelier del gaming, Gita. Sommelier del gaming. Oddio via. Potete scherzo, frate. Però già aspetto qualcuno che verrà dire. Dani, mi sei caduto in basso stremmando forte. Scusami, sommelier dei videogiochi. Sai chi altro è caduto in basso? Tua madre. Quando lavora! Tranquilla, tranquilla. Ma c'è un cavolo e una banana qui. Cercala il puntino rosso. Raga, perché c'è un cavolo e una banana? Oh, sono finito sotto terra. Ma io sono confuso, rega. Cos'è questa pietra? Oh, raga, raga. Prende Enrico a chiare. Sono sotto terra. Lui non si accorge che arrivo. Guarda. Buu. Sono qua. Ma ma che cazzo? Ti sei spaventato, Tia? Un foto, però. Perfetto. Ah, raga, ma io sono... Meno male, perché se no... Hanno messo... Ah, no. La taglia è pallida. No, raga, ma io sono... C'è gente che ci spara alle spalle. Dov'è? Eh, hanno colpito danni, mi sa. Eh, credo. Gli ho fatto... Qualche danno. Penso io. State lì, certezo di sopravvivere. Mi hanno tirato giù. Ma li hai chiuso qua! Mi hanno abbattuto. Dani, aiuto. Non c'ho capito chi può... Oh, sti! Sono caduto. Dani! È qui! Madonna, ma non ci capisco niente! Madonna, ma ti ha costruito sta cosa infernale! Pezzo di schifo! Boh, non lo so, raga. Sì, adesso una volta li rianimo. Grazie mille, una volta è la più semplice. Io sono ora giovane e piacente. Che carini che siete. Io non sto capendo un cazzo. Ma io neanche. Cioè, ci sono troppe cose che mi confondono. Già la mappa così mi disturba. Ma assolutamente. Il pompa ce l'avevi tanto per. Allora, prima di tutto, watch the language. E poi il pompa... Io non faccio niente con le robe, con le pompe. Io non ti attento al linguaggio, dovrò bannarti. E l'ha scritto un moderatore. Io mi tiro sui medikit a sto punto. Tanto... Cioè... Mi kill hanno subito se mi devono colpire. Ah, ma mi avete abbandonato! Tranquillo, state lì, state lì. C'è un player davanti tra me e voi. E allora, c'è Chris che sta andando praticamente... C'è un player in bocca ad altri player per restarmi. Quindi non conviene. Ah, io voglio dargli manforte, però. Vai tranquillo, state lì, buildate. State vicini vicini. Mi so ricordato il tasto. Ho fatto l'unica kill della partita, a parte Chris. Eh, sì. Io ne ho fatta una anche. C'è arriva uno. Arriva uno da noi. La trappola! Arriva, usciderò. Ma perché esco fuori? E qui mi caccia fuori la sabbia. Tranquilla, tranquilla. Chris. Vado a piedi. Aiuto, Chris. Aiuto, Chris. E c'è caccato. Oh no, com'è che era per tenere la trappola? Lo pusciamo? Vai, ci sono. Spara, spara. Spara, spara con te. Vabbè, quella era Chris. LOL. Io ho sparato anche Chris. A casa. Vai. Bravo, Dani. Oh, Dani. Il provino si è vicino. Dani fa la kill. Ho anche provato a fare la kill su Chris. Poi mi sono accorto che era Chris. Non puoi uccidermi. Mamma mia, top, raga. Siamo diventati fortissimi. In questo anno di pausa. Perché l'hai dovuto dire? Adesso perdiamo l'isi. Ma siamo in dieci. Possiamo vincerla subito. Sai che meme sarebbe? Sì. C'è gente da me, c'è gente da me, c'è gente da me. Colosseo, ho scoperto il Colosseo. Er Colosseo. Er Colosseo, au. C'è Er Colosseo. Er Capitano. Mi vedo, sono davanti a me. La maglia, ho fatto una kill. Esatto, prossimo merch natalizio. Ma di nuovo? Non l'ho mai fatta. Ma come non l'hai mai fatta? Non ci dire l'ora. Mai fatta e mai la farò. Ah, la maglietta? Mamma mia, guardate quanto sono proprio. Qualsiasi frase uscita dalla bocca di uno YouTuber. Ok, raga, la farò io allora. Ah, 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 Dio! Ma Chris che ci costituisce il muro davanti? Ma questo chi cazzo è? Quanto siamo inutili, no? Chi ha preso il mio cecchino? Io. Io ho un cecchino. Ah, ok, fai lasciarlo, fai lasciarlo. L'hai buttato giù. No, prova, no, prova. L'allucinazione mi sembra di vederti su Fortnite. No, è una allucinazione. Puoi uccidere quello lì? Stanno pushando. C'è un bug, in realtà sto giocando a un gioco davvero sommelier del gaming italiano. Genshin Impact. Oh, ci sta Genshin Impact, ci fa stare. Sì, se sei vergine, sì. Ovviamente si scherza, si scherza, eh! Prima che voi facciate un post la mentela su Reddit su di me. Ci sta il post Reddit su Reddit. Che cazzo? Cioè, altrimenti come farò a dormire se quello fate? Cioè, esiste sta cosa di fare il post la mentela su Reddit? Non lo so, sì. Io dico un bucchio di cazzate. Che mondo di merda. Non lo so. Non so dove ho lasciato la kill. Let's go. E si vince! E si vince! La prima partita dopo un anno. Si torna vincendo in maniera determinante con la prima kill del team. Vai, ragazzi. Prima e unica kill, Tivo. Ma sti cazzi. L'abbiamo vinta. L'ombrello è fatto. Ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. Oh no.